Erano 7-4 giorni di lavoro, 7 studi di allenamento, la prima scambatura, devo ringraziare parte della squadra nostra, chi ci ha fatto da sparing partner sul Pizia, sono indicazioni troppo premature, l'importante è aver visto l'applicazione su qualche concetto e principio che abbiamo dato, sono molto ottimista, molto contento non dalla partita di oggi, ma proprio dall'approccio del lavoro dei ragazzi di questi giorni, di questi primi studi di allenamento, sono molto contento per quello, poi la partita di oggi è giusto la prima volta che giocavamo insieme e perciò ci ha servito, mi ha servito molto, penso di aver tratto molti spunti su cui lavorare e su cui continuare quello che abbiamo appena iniziato. L'obiettivo è vincere, noi siamo qui e stiamo lavorando per vincere, sono molto convinto che daremo soddisfazioni giuste, però poi non servono, aspettiamo che il campo ci darà altri scontri, ce ne avremo subito uno e quattro, un test più probante, però il secondo insomma, come oggi non dobbiamo pensare niente, dobbiamo soltanto lavorare, abbiamo ancora un mese e venti giorni all'inizio del campionato, perciò tempo ne abbiamo, dobbiamo essere bravi a capire dove possiamo correggere, dove dobbiamo assolutamente migliorare e poi penso che faremo un campionato di agonisti, qual è il nostro obiettivo.